Le europee saranno un momento molto importante, per noi sarà importante concentrare l'attenzione su quelli che sono i candidati del territorio, per esempio per la provincia di Treviso il candidato è Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, una persona concreta legata alla nostra realtà, legata a quelli che sono anche i principi del partito della Lega Nord da cui proveniamo, che sono quelli anche dell'autonomia, sono quelli di un'evoluzione verso una modernità e un nuovo passo che la cittadinanza ci chiede.